buongiorno 706 e 25 secondi entriamo con 30 secondi d'anticipo rispetto al solito e vi senti tutti questi 30 secondi d'anticipo buongiorno a Lorenzo Masieri buongiorno a Fabio Ranfi e benvenuti a Good Morning Milano il morning show di Cristal Radio il morning show di Milano ormai mi arrogo il diritto di essere il morning show di Milano basta anche perché ti dico la verità non so quante altre radio esistono che fanno un morning show dedicato esclusivamente alla città di Milano non so quanti altri media facciano un morning show dedicato alla città di Milano non so e mi chiedo come mai e noi lo facciamo allora no va bene buongiorno a tutti come state come state tutto bene allora oggi è giovedì come dice qualcuno già jov si va verso il weekend siamo già cioè giovedì è il giorno che basta è già in discesa no al momento mi sembra grande salita anche per te questa mattina grande mattina grande salita per il nostro scalatore Lorenzo Masieri 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 il nostro numero di whatsapp a cui potete scriverci come potete mandare un segnale un segnale di fumo un emoticon basta che non ci mandate quella macroncina un bel emoticon un bel sorrisino qualche cuoricino ci piacerebbe riceverlo in cambio noi vi diamo tanto intrattenimento tanta informazione tanta simpatia tanta simpatia mi sa era olmo di mai dire gol no c'è tanta simpatia tra di noi può essere può essere può essere e adesso invece i the colors italo disco suona italo disco lo suona qui su crystal radio alle 7 e 12 minuti di oggi giovedì 5 ottobre vi ricordo 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 il nostro numero di whatsapp a cui potete scrivere mandare foto messaggi audio un po tutto quello che che volete e noi lo leggeremo qui in diretta cercheremo di fare un po di compagnia questa mattina ma soprattutto voi non avete capito la funzione sociale che avete qua di fare voi compagnia a noi per riuscire a tenerci desti e svegli qui tutte le mattine su crystal radio vi ricordiamo good morning milano il morning show di milano dalle 7 alle 9 sempre qui con voi crystal radio crystal radio se la state ascoltando sapete come ascoltarla però magari avete il dubbio di dire ma adesso io sto ascoltando dal computer poi come esco di casa no no quando esci di casa vai sulla macchina schiacci mode e c'è sul dub oppure c'è sull'fm quindi anche nella vostra autoradio ci siamo cercateci scriveteci se non ci trovate vi diamo le istruzioni per trovarci oppure contrario siete in macchina adesso devo scendere e devo andare sul lavoro non posso sentirvi e invece no c'è l'applicazione c'è l'applicazione c'è l'applicazione per ios e dice non c'ho l'iphone solo un po' eretto non c'ho l'iphone no c'è anche per android senza offesa se vi siete comprati il nuovo iphone in titanio ovviamente che si riscalda infatti io l'ho appena ordinato e infatti sto sperando che non arrivi così almeno se magari lo sistemo ci metto dentro un raffreddamento se non sbaglio tre anni fa c'era la questione che il pro si piegava che l'undici questo esplode ma comunque in realtà sembra che diranno la colpa a instagram nel senso che quelli di apple dicono non è colpa nostra è colpa dell'app di instagram che fa surriscaldare il telefono quelli ovviamente quelli di meta dicono no è il telefono che l'avete fatto del merda e quindi vabbè divertentissimo questa questione che non frega niente a nessuno se non a quelli che hanno comprato l'iphone e già hanno in tasca però posso dire con l'arrivo dell'inverno può essere comodo scalda le tasche facciamo quella roba come gli scaldotti per l'inverno va bene può essere una cosa utile un po' meno quando ce l'hai in mano e su riscalda dopo di che io c'ho il mio iphone 11 che ormai è pensare un iphone 11 è obsoleto pensate a che roba che comunque scalda come so che cosa anche lui diventa bollente vabbè comunque comunque scriveteci voi che phone avete quello della roventa per farvi i capelli può essere masieri tu lo usi il phone con quei capelloni ogni tanto si e diventi tipo donna summer si esatto il problema è quello ultimamente sono fan del turbante del turbante mamma mia con l'estate chi non mette un turbante d'estate chi non mette un turbante d'estate ti ricordo che anch'io ho avuto un passato da cappellone ho visto delle foto mettevo la fascetta oppure facevo in testa la codina dritta in testa infatti in quel periodo il mio soprannome era ananas ah beh bello dalla gente che ti voleva bene c'è gente in questo momento ancora mi chiama così comunque vabbè da ananas passiamo ad ananas bravissimo vedo che hai capito in realtà no perché non c'entra l'anas ma anzi c'entra l'aci sto parlando di luce verde sto parlando del traffico cittadino sto parlando della redazione appunto di luce verde che ci dà la situazione proprio la fotografia come fosse uno street view live in questo momento sulla nostra città nella Lombardia del traffico che sta ovviamente arrivando in città e anche qualcuno che se ne va ricordiamo che c'è anche a gente che esce comunque colleghiamoci appunto in diretta adesso con la redazione di luce verde purple disco machine something on my mind 7 e 20 minuti posso essere tranquillo adesso sto guardando le notizie notizie di questa notte proprio appena è uscito ios 17.0.3 e mi hanno sistemato il problema di suo riscaldamento buono meno male quindi cari negozi apple in cui ho prenotato il telefono andate pure avanti a questo punto fatelo pure arrivare grazie mille se siete in ascolto grazie mille un negozio che ha a che fare con il succo io non posso andare oltre la faccia pubblicità io non lo conoscevo non lo conoscevo la mila il succo di mila credo l'abbiamo chiamato così sicuramente non ricordo il nome vero perfetto perfetto meglio così meglio così perché volete che parliamo bene di voi su cristal radio bravissimo 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 va bene andiamo avanti dai allora ci sono un po' di notizie sono un po' di notizie sparse qua e là sparse qua e là sì domani inizia la mental health non è una in realtà non è una week perché stavo già per dire basta non è una week è un festival è la milano for mental health infatti dura tre settimane free week weeks dal 6 al 31 ottobre seconda edizione della milano for mental health più di un centinaio di incontri che chiaramente hanno l'obiettivo di sensibilizzare e porre al centro del dibattito sociale e politico la salute mentale appunto con l'obiettivo di portarla diciamo al come si può dire con due parole non so non riesco a capire dove vuoi andare se voi chiudiamo andiamo a casa sigla a portata di tutti perché sappiamo benissimo quante sono le iniziative del comune di Milano pensiamo al psicologo del quartiere eccetera per fare in maniera che la salute mentale sia un tema a cui possano accedere tutti più persone e sia anche magari inserita anche nel dibattito giornaliero anche nel dibattito pubblico cioè che non ci siano più gli stigmi che non ci sia più lo stigma dietro alla salute mentale a tutto il tema appunto della salute mentale quindi milano for mental health punto uno punto uno sì punto it ma cosa stai dicendo? stamattina stai dicendo cose senza senso 721 ma dire 721 dilla quello che sveglio dalle 5 che adesso ci sta ascoltando mentre stanno facendo una pausa a caffè ho capito mi spiace mi spiace non so cosa dire va bene 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 potete tranquillamente insultare il mio socio questa mattina che non so se non sei drogato sei un sobriaco no cosa hai fatto ieri sera? ieri sera sei andato a un birrificio dove? sono andato a un birrificio ma poi mi sono lo sapevo a mezzanotte ero a casa lo sapevo come ce ne ero a casa hai perso la scarpetta o il boccale? cosa hai perso? non ho perso niente non ho perso niente va bene va bene e invece ieri mi ha parlato di Berlusconi che forse entrare nel famiglio e tutto? tutti d'accordo? ieri alle 14 il consiglio comunale ha approvato la proposta del capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico di far accedere al famiglio del monumentale Silvio Berlusconi nessuna divisione nello stesso sala nessuna divisione no e invece no ce n'è uno Monguzzi all'attacco Carlo Monguzzi Carlo Monguzzi attacca dicendo not in my name ci mancava anche questa Berlusconi condannato per riatti finanziari e ricordato per il bunga bunga viene iscritto al famiglio contrario persino al regolamento che nell'articolo 2 definisce la qualità dei cittadini illustri e benemente meriti not in my name è sempre bello vedere come Monguzzi è una persona che unisce tutti quanti intorno a un bel falò insomma diamoci un segno di pace il cavaliere direbbe abbiamo anche la contestazione evviva ecco vabbè vabbè le parole ah sì non sapevo dicono questo io non capisco niente ovviamente né in italiano né in inglese ho visto recentemente un video in cui Zucchero era nella tenuta di Sting e quando parlavano personalmente capivo più Sting che Zucchero però bellissimo quel video là in mezzo alle campagne con loro due chitarra e voce beh beh lì la tenuta di Zucchero è qualcosa di Sting ah no tu devi vedere qua di Zucchero invece che c'è mamma mia vabbè magari sugli appennini qua tosco emigliani c'era un mio amico che aveva la casa lì vicino e Zucchero spesso capitava in paese nel baretto del paese giusto 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 e si arriva là faceva un po' la star vabbè sì guarda ieri ho finito di vedere invece il documentario di Vasco c'è la scena ci sono scene ovviamente anche lì nel baretto dove fa un po' la star e tutto vabbè però dovrebbe avere gli amici di sempre a proposito oggi escono i biglietti e per chi è fan come me è il click day è il click day dei biglietti di Vasco ah ecco a Catataville comunque Pontremoli è il posto dove c'è la casa di Zucchero che è pronto sull'appennino tosco emigliano vicino a Liguria un posto bellissimo tra parentesi salutiamo Aurora nostra ex redazione di Milano News che è di Pontremoli ad esempio a proposito di cantanti notizia indovino un po' di colore di colore di colore perché a Picella no pensavo fossimo sempre sullo stile cioè seguivamo la linea berlusconiana della prima notizia Tommaso Paradiso sì nostro collega perché? ex giornalisti ex dei giornalisti farà uscire un album il prossimo 6 ottobre ma il 5 lo presenterà dove lo presenta? alla ricordi non c'è più anche ricordi ma il Virgin a Feltrinelli non c'è neanche più la Virgin ho detto due posti che non esistono più caldo cioè Virgin è una palestra non esiste più mariposa Virgin è una palestra adesso non fa più dischi quindi va bene no lo presenterà in un pub in zona Maciacchini quello contatto rosso sì quello l'Irish Pub della della Tona 9 non lo so perché ma di quelle parti non lo so i primi che hanno preordinato il il disco hanno avuto questo invito qua e si presenteranno il 5 ottobre alle 22 alla Bed House di Maciacchini per incontrare Tommaso Paradiso da non confondere con Maurizia ok no Paradiso non si incontra da altre parti grande Maurizia ci ho lavorato anni insieme divertentissima sai chi abita vicino alla Bed House di Pazzane Maciacchini dopo il mio amico Francesco De Molfetta ah il vicino di casa di Gammon e quindi per quel giorno anche vicino di casa di Tommaso Paradiso oh vada vedi vedi quando l'arte centra l'arte Milano è piccola arte chiamate Milano è piccola sì la mia amica Tita Tussi diceva Milano è un piccolo bidet diceva così la fin della vera tutti lì si stanno in questo catino ma più di tanto non è così comunque 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 continuiamo invece con la musica non sono di Milano credo no forse no forse Rosvigliano di Milano non credo forse sì lui forse sì perché lei ah non è un lui no ma non è quello che ah no quello è Rosachemico non è un altro non è un attimo confuso le personalità vabbè ci sta dai l'altro invece Achille Lauro e vogliono mangiarsi delle fragole insieme a dello champagne queste fragole Achille Lauro e Rose Villian Achille Lauro e la bravissima Rose Villian con Villain Villain chiamati chiamati Mina è facile cioè adesso Rose facciamo due chiacchiere nome di Mina non me lo ricordo ma non lo so non mi interessa non me lo ricordo neanche più ma no chiamati Ron no Rosalind c'è la mano cioè è facile ho capito oppure Fabio Concato chiamati così così almeno è facile ma Rose Villian non sono capace di leggerlo cioè vabbè comunque chiamati Pink Floyd non lo so è più facile è più facile chiamati per nome chiamati per nome chiamati con un altro nome che non è chiamami per nome comunque non mi devo arrabbiare no ok no perché lo dici c'è anche il documentario Blue Zone che ho visto su Netflix cos'è è un documentario che va a analizzare le 6 o 5 zone dove ci sono la più alta concentrazione di centenari nel mondo tra cui ovviamente la Sardegna e il Giappone e altri non mi ricordo isola di Okinawa e una signora di Okinawa di 104 anni dice a io io sto pensando degno no ha detto no scusate chiedo scusa ai Sardegna ascolto e anche agli Okinawa ha detto che l'importante per riuscire a vivere bene fino a 104 anni mi dice io vivo bene quello che bisogna ridere sempre e quello vabbè basta avere uno come masiere di fianco ed è fatta ma soprattutto non arrabbiarsi mai e quello invece faccio un po' fatica a volte all'alberghiero dicevano che la dieta mediterranea la dieta delle isole è la principale responsabile del fatto che vivano centenari sì sì anche lì si capisce che è uno dei fattori in realtà poi è molto bello perché va a analizzare altri fattori tra i sei fattori che lui ritrova ricorrenti nelle varie zone c'è una sorta di dieta c'è una sorta di dieta come dici tu non necessariamente quella mediterranea perché Okinawa ovviamente hanno altre cose però in realtà diciamo che la trasposizione della dieta mediterranea in un'isola del Pacifico del Giappone nel senso comunque verdure legumi e mangiano il 60% della loro dieta è caratterizzata dalla patata dolce quella viola a Okinawa proprio semplicemente a me stucca dopo stucca oddio è il termine molto giovanile però ci sta ci sta a lappa dopo due dopo due c'è quel dolcino che un po' ti va bene allora state ascoltando Mister Chef insieme al nostro Lorenzo Masieri che ricordiamo diplomato con pieno di voti all'alberghiero di Milano è laureato dopo a Carlo Porta ma la tua vetta l'hai raggiunta facendo pasticceria giusto? 94 produzione dolciaria e prodotti da forno c'è capito no produzione dolciaria prodotti da forno su LinkedIn c'è scritto produzione dolciaria capite che abbiamo un piccolo bauli qui con noi no perché non massare un bauli perché va bene un'azienda no vedi io sono già prospettato va bene va bene dai Mister Mesquick cos'è che hai letto dai giornali la notizia di settimana a Milano è quella di Franco Gabrielli ex capo della polizia nominato come delegato dal sindaco Giuseppe Sala sulla questione della sicurezza e della coesione sociale ne abbiamo parlato da lunedì sappiamo anche che entro 2025 c'è un piano che prevede il fatto che aumentino i vigili fino a 3300 e passa qual è il problema che denuncia Alessandro Verri capogruppo della Lega che tra l'altro settimana prossima sarà qua in studio con noi che il 43% dei vigili sta però in ufficio ah eh sì c'è quella cosa di famosa che dopo X anni che sono sulla strada devono per forza rientrare in ufficio allo scorso 30 aprile 2600 passagenti di cui 1400 in servizio esterno in strada e 1146 in servizio interno e quindi sarà una questione da discutere si sottolinea sulle pagine del giorno Milano e sì c'è da rivedere credo proprio anche gli accordi sindacali all'interno del comparto dei vigili e che sappiamo non è una cosa semplice da andare a toccare tutti i sindaci che hanno provato a toccare quella roba lì si sono diciamo leggermente scottati quindi anche vent'anni fa la questione non è nuova a Bertini esatto vorrei portare l'esempio di Albertini dura battaglia contro i sindacati per questa vicenda vi invito ad andare sul sito di Milano All News a cercare l'intervista che ho fatto al sindaco Albertini tra i paesi una bellissima intervista per la mia volta itinerante in alcuni luoghi della città e proprio a un certo punto parla di quando iniziò la grande lite con i vigili ma poi riuscire a ma poi riuscire a replicificarsi l'ex sindaco Albertini e quindi tutto finì bene diciamo almeno così racconta il sindaco Albertini sarebbe una da chiedere il capo dei vigili se fu veramente così comunque è vero o chiunque tocchi quella roba lì è un po' come a Roma se tocchi la questione rifiuti sappiamo che lì si scottano un po' i sindaci e qui a Milano appunto è veramente spiegabile la questione sono difficili good morning Roma ne parlerà benvenuti a good morning Roma siamo qua a parlare dei rifiuti ecco passiamo la palla a loro questo è Carlo Calenda in che senso invece questa roba ok allora Carlo se sei all'ascolto Carli se siete all'ascolto fate good morning Roma e poi magari ci colleghiamo lo guarderei lo guarderei ma invece sai cosa devi guardare? good morning no per gli amici che ci seguono su youtube il direttore vabbè non dico niente no devi guardare good morning Milano dove lo vedi su Milano News dove lo rivedi su Milano News dove lo ascolti in diretta su Cristal Radio Cristal Radio Milano 96.2 da Plus e anche sito e app Marco Mengoni con Franco 126 quando ci si ammazza il tempo vola io sapevo che è quando ci si diverte il tempo vola comunque bravo Franco 126 dopo la carriera da porno star è passato a fare non è Franco 30 ah no pensavo se lo stesso che avesse c'è un numero è il codice fiscale di qualcos'altro di Franco 30 126 stavamo parlando di sicurezza una reazione appunto alla nomina di Gabrielli arriva da Devo Ragiovanati della Lega Consigliera che sottolinea una cosa che comunque pensano un po' tutti da una parte all'altra comunque i delegati del sindaco dice non hanno mai combinato grandi cose nessun potere reale nessun budget a disposizione manco lo stipendio gli danno vedete gli attuali delegati all'accessibilità e alle pari opportunità a me pare l'ennesima supercazzola alla Beppe Sala abbiamo nominato Gabrielli ora che volete da me ha detto supercazzola alla Beppe Sala ha detto così leggo un post pubblico sì 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 dico no non male non male come trapezione politica del momento invece c'è una notizia un po' particolare sul Lido di Milano l'ennesima notizia sul Lido di Milano poco fa me l'hai letta hai detto ma come di nuovo leggi ieri Milano Sport ha affidato le chiavi dello spazio alla società spagnola che GoFit che avrà per due anni farà per due anni i lavori al Lido e poi l'avrà in concessione per decine d'anni quasi 50 25 milioni di euro che sono chiaramente saliti con le recenti vicende lo sapete quindi nuovo lavoro al Lido quindi loro l'avranno in gestione quindi devono gestirlo poi con i servizi ma prima due anni di lavori due anni di lavori e poi sarà un altro Lido un altro Lido quindi rinasce l'Lido idroscalo possiamo dire così che giorno è oggi? oggi è il 5 ottobre perfetto Milano Today 22 dicembre 2022 un piccolo idroscalo ecco il nuovo Lido di Milano rinasce l'idroscalo a gennaio inizio i lavori allora evidentemente sono iniziati ma non sono finiti vabbè queste sono le belle notizie che da Milano quindi devono iniziare un anno fa e adesso in pompa magna dicono che iniziano a breve no domani probabilmente hanno iniziato ma ci sono altri due anni di lavoro comunque poi approfondiremo un po' meglio perché rimane il problema delle tariffe accessibili abbiamo parlato anche quello che è quello ma adesso adesso abbiamo in collegamento Paul 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 di Nati per nascere a Milano e sentiamo cosa ci dirà oggi va bene ciao Milano buongiorno Paul Paul ciao ben ritrovati sul nostro profilo radiofonico di Nati per nascere a Milano mi risulta difficile immaginare un profilo radiofonico perché ebbè non è un profilo è un profilo no è un profilo guardi la radio un po' di sbie cosa è di profilo profilo radiofonico perfetto non sarò certo io a contestarla oh my god abbiamo visto noi della redazione di Good Morning Milano che ha iniziato una nuova rubrica protagonisti 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 della nostra città la nostra città è piena di protagonisti ovviamente il più protagonista di tutti sono io Paul Paul di Nati per nascere a Milano ciao Milano e tu che protagonista sei com'è? no è la call to action ah adesso dovrei pigiare io ciao Milano Paul Paul oggi ci ho portato un protagonista oggi vi racconto la storia di un protagonista sono veramente curioso allora inizia così ciao Milano ciao Milano possiamo andare avanti oltre il ciao Milano no è il mio marchio di fabbrica è chiaro però è il mio timbro è il mio stamp è il tuo tormentone il tuo tormentone tu sarai tormentato io no caro allora ciao Milano il protagonista di oggi è il piccolo Luca oh piccolo Luca quanti anni ha? il piccolo Luca ha 42 anni il piccolo un tempo è stato piccolo ma è alto un metro e 45 va bene va bene allora va bene il piccolo Luca è uno dei grandi protagonisti della nostra città riesce a fare cose che nessuno è capace di fare in questa città tranne alcuni suoi amici cos'è un prestigiatore un mago mi hai letto nel pensiero bravo è un mago è un mago che riesce a far scomparire tutto quello che lui tocca bellissimo bellissimo quindi Luca 42 anni piccolo 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 e è un mago è un mago allora guarda fa scomparire il Duomo come Copperfield di più cosa fa? ciao Milano Luca in questo momento è davanti alla tua 127 posteggiata qui davanti è nella via della radio e ti sta facendo sparire l'autoradio no Paul è un delinquente ma no è un mago è un criminale è un mago è un criminale Paul allora Milano sono tutti capaci di raccontarti i grandi archistar i grandi supermoder i grandi top artist i grandi influencer ma Paul è quello che fai tu no io racconto racconto i veri protagonisti della città Milano Luca è un vero protagonista un metro e quarantacinque persa sotto la macchina e c'è autoradio è un criminale ma no è un mago è arte è arte è urban art l'arte della delinquente no urban art come sei provinciale sarà Paul allora ricordate questo io sono Paul Paul from North Carolina Massachusetts Illinois e tu sei Lorenzo von Bovisa tutto qui è vero questo è oggettivamente vero ma non ce lo giustifica il fatto di rendere protagonisti nella nostra città persone che sono protagonisti importanti nella nostra città rendono Milano famosa nel mondo beh insomma magari non ecco per le cose per la quale dovrebbe essere famosa per cosa allora per cosa è famosa Milano nel mondo dai la moda cioè no no ciao Milano Milano in questo momento è top 10 tutti talk per quelli che rubano le autoradio no quelli che fanno sparire le autoradio per lei pick a pocket 8 e 12 minuti bentornati qui su Cristal Radio con Milano Good Morning Milano si chiama così si chiama così Cristal Radio Milano la trasmissione Good Morning Milano in diretta su Cristal Radio Milano 96.2 FM streaming Da Plus sito app e poi milanonews.it per vederci in diretta in questo momento oppure vederci in sei tu vederci in rivederci dopo con tutto il montato della puntata e anche i nostri ospiti le nostre telefonate i momenti ludici e ricreativi cosa dicono i giornali Carlo Miamasieri due notizie su ATM il sole 24 ore ATM ha firmato in Grecia il contratto per la gestione della prima metropolitana automatica nella città di Sallonicco che entrerà in funzione nel 2024 ricordiamo che ATM si gestisce la metropolitana milanese ma in giro per il mondo gestisce anche altre metropolitane Oslo no Copenhagen ah Copenhagen ho sbagliato così mi ricordavo che c'era una la sopra Copenhagen dal 2008 l'intera rete metropolitana driverless di Copenhagen di Copenhagen ossia senza conducente nel 2011 Ariad ha avviato la prima linea della città e dal 2013 dice appunto a Milano con la guida automatica in M5 e poi recentemente con la M4 l'obiettivo qual è? l'obiettivo è raggiungere nei prossimi anni tra il 30 e il 40% dei ricavi totali di ATM attraverso la gestione di progetti nel mondo ah hai capito poi magari è una volta buona che ci bastano il biglietto a noi ah ecco alzatolo a quelli di Salonico che lo bastiamo a noi 30-40% dei ricavi è tanto infatti quindi abbastateci del 20% va bene vi regalo anche ci abbastate del 20% a noi così almeno lo alzate a quelli di Salonico a Copenaghen c'è un piede di soldi ma infatti a Copenaghen quanto costerà un biglietto ma non lo so dopo andiamo a vedere ma soprattutto in giro per la metro di Copenaghen driverless c'è il marchio ATM adesso cerchiamo non lo so infatti sono curioso non credo perché ad esempio sulla transvesuviana come si chiama transvesuviana c'è il logo di MM perché la gestiscono la gestiscono di MM però c'è piccolino da qualche parte mi ricordo che c'era il logo di MM anche perché su a gestire chiaramente non sarà l'unica no infatti lo so bene l'ATM l'ATC l'azienda di trasporti di Copenaghen ATC non lo so 331-78-53-555 amici di Copenaghen quanto costa il biglietto da voi se dovete andare dalla zona A di Copenaghen ad Abbiategrasso 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 di Copenaghen Abbiategrasso quanto spendete quanto spendete non lo so però effettivamente pagate pure anzi mi raccomando usate tanto la metro a Copenaghen così ATM ci guadagna e veramente la prossima manifestazione faremo più Copenaghen meno prezzo il biglietto a Milano faremo così faremo così 8 e 15 minuti continuiamo comunque la nostra trasmissione continuiamo anche con la musica è arrivato il momento invece di pensate sarà contento il nostro Roberto che so che settimana scorsa aveva vinto aveva vinto i biglietti per i BTS aveva vinto i biglietti per i BTS questa canzone si chiama K-pop e sono Travis Scott Bad Bunny e The Weeknd Travis Scott Bad Bunny The Weeknd K-pop alle 8 e 19 minuti chissà se è lo stesso concerto K-pop che ha vinto appunto il nostro Roberto chissà in che Corea si trova il nostro Roberto chissà in che parte del mondo si trova infatti magari chissà se un giorno incontrerà Paul Paul ad esempio immagino un incontro Paul Paul e Roberto non si sono mai visti nella stessa stanza diciamo così può essere a proposito di Metropolitane Copenhagen ATM Salonico un TikToker dal nome account mi rifiuto di dire dal nome dall'account frizzo.et ha pubblicato un video appunto sulla piattaforma in cui illustra i dati relativi alla qualità dell'area nella metropolitana di Milano con un aggeggio adibito alla misurazione qualità dell'area ho già capito che i giornali hanno scritto castronerie come al solito è risultato che all'interno dei vagoni e sulle banchine eccetera del metro di Milano il valore di polveri sottili è superiore circa 10 volte quello che si respira stando in mezzo alla strada nel traffico principalmente dovuto alle polveri di metallo rilasciate dall'impianto frenante quando si frena sui binari chiaramente forse anche dalla poca reazione poca reazione esatto la conformazione i tunnel eccetera e questo attenzione poi che si parla di qualità dell'aria non di inquinamento molti giornali hanno scritto inquinamento anche quindi siamo attenti a definire qualità dell'aria anche a volte quando semplicemente non siamo nelle finestre la CO2 aumenta sopra un certo livello che non è proprio una cosa buona però adesso non andiamo a approfondire questa notizia perché è interessante frizzo.net bravo frizzo bravo frizzo bravo una pacca sulla spalla magari adesso cercheremo di capire meglio da lui come ha funzionato e poi ve lo raccontiamo nelle prossime mattinate continuiamo con un po' di musica e che musica perché adesso ovviamente si va sui pezzi grossi questa mattina questa mattina l'ufficio programmazione ci regala un grande pezzo un pezzone di quelli storici si sente già sotto sta arrivando stanno arrivando arrivano camminando come dei martelli chi cammina come dei martelli ma non ti ricordo il videoclip certo che ho capito però chi vuoi che sia se non loro cioè solo loro ci sono loro i Pink Floyd con Another Break in the Wall Liam Gallagher Liam Gallagher alle 8 e 30 minuti qui su Crystal Radio mi mancano gli Oresis in realtà bravo Liam bravo Noel quando c'erano gli Oresis quando c'erano gli Oresis 8 e 30 minuti inizia l'ultima mezz'ora di trasmissione come di consueto lo facciamo con l'ospite chi abbiamo oggi caro il mio buon Masieri abbiamo Giovanni Pianetta dell'associazione Alphabeti buongiorno Giovanni grazie di essere collegato con noi buongiorno direttore buongiorno Lodenzo allora Alphabeti un'associazione un'associazione appunto milanese ormai da quanti anni che recuperate sul territorio da un bel po' ormai no? quasi 35 eh insomma più che matura oserei dire ricordiamo un po' a chi ci sta ascoltando che cosa fa Alphabeti allora Alphabeti che eh per essere complete il nominativo sarebbe Alphabeti O.D.V questo O.D.V è un acronimo che sta per organizzazione di volontariato c'è stata la riforma del terzo settore quella del volontariato eh molti non lo sanno ma hanno tolto il nome di Onlus si continua a usare il nome di Onlus ma in realtà eh adesso si dice a livello burocratico organizzazione di volontariato quindi come dice il nome siamo un un organismo appunto di volontariato un'associazione di volontariato eh che ha due scuole popolari di eh in cui si insegna l'italiano sia ai migranti che agli immigrati residenti eh quindi questa la nostra mission è proprio quella di insegnare l'italiano agli stranieri e i corsi sono iniziati il 2 ottobre reggo Giovanni giusto? Sì sono iniziati lunedì quindi come si andava una volta che si cominciava all'inizio di nove e di ottobre e abbiamo fatto questi ovviamente eh lunedì sono iniziati i corsi delle veri e proprie bisogna forse spiegare che noi ehm come dico io abbiamo due polmoni e respiriamo con due polmoni e cioè al mattino c'è la scuola donne che è riservata solo alle donne con insegnanti solo donne che va un paio d'ore dalle 10 alle 12 abbiamo anche una come dire un babysitteraggio perché molte delle donne che vengono hanno bambini piccoli in età prescolare quindi dobbiamo anche tenere questi bambini piccoli e invece la scuola serale che è aperta tutti uomini e donne e ovviamente va in orari serali ci tengo a dire che la nostra scuola tranne una piccola quota di 10 euro di iscrizione più il testo il libro è è gratuita ehm e quindi non sono pagati né i volontari ovviamente essendo dei volontari è è praticamente gratuita anche per gli studenti e le iscrizioni come sono andate Giovanni perché 25 26 27 settembre ehm appunto sono state aperte e come sono andate come è stata la la risposta abbiamo raggiunto il boom storico ehm abbiamo avuto per la scuola donne ehm centoquattro iscritte eh che è un record della per la scuola donne e eh per la scuola serale centoquarantacin cinque iscritti anche qui abbiamo toccato il boom che purtroppo c'è costretto addirittura delle liste di attesa eh non siamo riusciti e abbiamo dovuto mandare via non poca gente non poche persone questo problema sia di eh mancanza di sufficienti volontari eh sia per un problema proprio logistico eh di sedi noi abbiamo due sedi dove siete? dove siete? ricordiamo le sedi? in via Biat in quattro e uno però la sedia principale quindi zona zona Piazzale Lotto per intenderci Barra City Life giusto? da quelle parti lì no no eh la zona è San Siro dalla parte Piazzale Lotto sì va bene comunque comunque va bene ehm la domanda principale quando sento parlare delle persone così che appunto mi raccontano di attività che fanno volontariamente la domanda principale che faccio sempre a cui anche per dare la risposta magari non è così semplice è ma chi ve lo fa fare? eh è una bella domanda ehm io credo con un senso che di sgomento rispetto a come vengono accolti o meglio non accolte queste persone e e dalla coscienza che c'è assolutamente un buco in questo settore ora non ci vuole molto capire che l'apprendimento della lingua è il primo passo per una dell'integrazione e mi sembra che da parte dello Stato e delle istituzioni anche delle istituzioni locali questa coscienza non ci sia assolutamente e e quindi si ricorre al volontariato quindi la gente che magari ovviamente molte persone sono già pensionati hanno più tempo libero come sottoscritto ma altri sono anche giovani che lavorano molti lavoratori lavoratrici che decidono di sacrificare una parte del loro tempo la mattina o la sera per aiutare queste persone ad integrarsi nella nostra società ecco prima hai parlato di volontari chi può fare il volontario per alfabeti e come funziona il processo di selezione o comunque come funziona appunto per poter fare e diventare volontario all'interno della vostra associazione ecco permettemi di lanciare un appello siamo in carenza di volontari abbiamo una settantina di volontari che non sono pochi tra le scuole popolari di italiano di Milano siamo tra quelli con il più alto numero di volontari però non sono sufficienti quindi chiunque all'ascolto avesse del tempo da voler dedicare a insegnare la nostra bellissima lingua uno non bisogna essere dei laureati in italiano né insegnare letteratura italiana basta avere una conoscenza di base dell'italiano ovviamente due noi formiamo i volontari quindi i volontari entrano nelle classi ma sono sempre in appoggio a un volontario già formato e quindi come dire è molto più facile tre facciamo dei corsi di formazione durante l'anno appositamente ai volontari per aiutarli ad apprendere come si insegna l'italiano a degli stranieri chiarissimo quindi diciamo appunto rifacciamo questo appello chiunque sia di Milano chiunque sia della zona ovest appunto ricordiamo voi siete dalle parti di Piazzale Selinunte quella zona lì appunto appunto se vuoi siamo immediatamente dietro Piazzale Brescia ecco perfetto la via viati è giusto dietro Piazzale Brescia e per cui tra Piazzale Brescia e Piazzale Selinunte ottimo quindi insomma siete di questa zona qui siete della zona San Siro della zona ovest comunque se siete di questa zona potete tranquillamente dacci un po' le coordinate appunto per saperne di più per poter trovare tutte le informazioni e sul nostro sito www.alfabetionlus.org tu mi direi mi è rimasta ancora la vecchia edizione dell'Ollus si è rimasta quindi lo ripeto www.alfabetionlus.org lì trovate il link che si chiama info.alfabeti dove scrivere dicendo vuoi fare il volontario ovviamente ci mandate una mail e avrete la risposta ci si mette d'accordo quando come vedersi e avere un primo colloquio di orientamento chiarissimo allora guarda io davvero Giovanni grazie mille quindi di tutte queste informazioni che ci hai dato grazie appunto prossimi corsi sono già partiti dicevi giusto quindi avete diciamo il sold out per fortuna non fa solo Vasco il sold out San Siro ma anche alfabeti per il sold out siamo ben contenti di questo Giovanni scusa Giovanni non ti ho sentito scusa non ho capito la domanda dicevo complimenti appunto per il sold out che avete fatto anche nei corsi e ricordiamo quindi che sul sito tu possono trovare tutte le informazioni sia per chi si vuole iscrivere ai corsi sia per chi vuole fare volontario sia per tutte le iniziative che farete comunque anche nei prossimi mesi giusto? giusto molto giusto perfetto grazie mille davvero a Giovanni Pianetta di Alfabeti grazie mille e complimenti davvero per tutto il lavoro che fate porta il nostro saluto anche a tutti gli altri hai detto tantissimi volontari che fanno questo con voi tutti i giorni e speriamo che ci siano tante altre persone che appunto accolgano il tuo appello grazie a voi buongiorno grazie mille grazie mille Giovanni rolling stone you don't have to mean it 8 e 43 minuti dopo il nostro ospito di giornata Giovanni Pianetta di Alfabeti appunto andate a controllare e a vedere in internet con alfabetionlus.org che è appunto il dominio il dominio il sito il sito internet degli Alfabeti noi siamo qua appunto con un po' di notizie che rimano da qua e là dopo torneremo a leggeri ma soprattutto siamo qui per ricordarvi che al 3317853555 potete scriverci il nostro whatsapp potete fare ci potete fare anche delle dediche se volete le leggiamo giuro faccio questa roba da whole style se volete fare tipo il vuoi metterti con me quadratino sì quadratino no si può fare su whatsapp quindi fatelo sì io metto sì a tutti lo dico già allora se ricevete dei sì sono di Fabio sì sì io metto sì a tutti perché voglio bene a tutti beh giusto sono una persona che voglio bene a tutti amo a tutti e quindi vi voglio bene sei molto inclusivo mi metto con tutti voi come è che si dice adesso poliamoroso 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 si dice così magari parliamo una puntata proviamo a portare qui qualche ospite qualche poliamoroso che ci parli di poliamore sì abbiamo contatti con quel mondo magari riusciamo a portarli qua e facciamo una chiacchierata non so se posso dirlo ma anch'io sono poliamoroso no non è vero non è vero non facciamo scherzi amiche di cristal radio amiche di cristal radio di scherzo amiche di cristal radio vi do ufficialmente questa brutta notizia Masieri non è più libero sul mercato eh sì eh sì 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 sai che c'è uno messaggio con qualche voce sexy che ha quel ragazzo e non lo vedete sennò è ancora peggio cioè nel senso ancora meglio ancora meglio ancora meglio la mattina alle 7 è ancora peggio c'è l'occhio un po' sbarrato c'è un po' l'occhio azzurro alla vasco rossi il cappello il cappello riccio alla dall'angelo brandua alla Jimmy End che stavo dicendo quindi dai un po' di musica Pinguini Tattici Nucleari e Bresh Nightmare Bresh e Pinguini Tattici Nucleari bella bella nuova fresca fresca ti si allunga il naso di le bugie lo sai come diceva la nonna diceva così diceva notizie abbiamo qualcosa? sì la classica notizia di giornato ormai i prezzi delle case a Milano continuano a crescere ma dai ma che notizia il giorno Milano Milano resta al top solo Como, Lecco e Cremona hanno presentano un lieve rallentamento a Milano il comprare casa costa in media 5.300 euro al metro quadro uno in più rispetto a tre mesi fa 3,6 in più rispetto all'anno scorso in provincia invece le cose si fanno un po' tra molte virgolette economiche sì la media regionale del costo del mattone infatti si attesta intorno ai 2.500 euro al metro quadro la metà che a Milano la metà che a Milano poi bisognerebbe capire se per Milano si intende la cerchia della circonvaluazione estera no no è una media o media provinciale la media del comune la media del comune di Milano 5.000 vuol dire che hai i 20.000 in centro e i 3.000 di Baggio adesso sto 3.000 a Baggio ma neanche persone saranno anche 4.500 a Baggio ci vado subito ormai saranno anche 4.500 a Baggio non lo so chiedo 33178 53555 so che ci ascoltano da Baggio quindi se mi dite quanto avete speso dalla lontanissima Baggio dalla lontanissima o vicinissima Baggio ex comune ecco siamo arrivati quasi alla fine comunque posso aggiungere niente aggiungi qualcosa sto spopolando su tiktok quello che andava a chiedere tipo cosa fai per permetterti questa macchina adesso chiede cosa fai per permetterti questa casa no quanto costa metro quadro la casa dove è eccetera eccetera per me è tutto finto ma anche per me però io lo riporto tu riporti sei come un cane lascia un bastoncino e riporti va bene ma se il cane da riporto quest'oggi va bene ognuno ha le sue funzioni e qual è la funzione Amara Satay quella di darci un po' di musica e ti chiedo anche già scusa quindi va bene scusa per la battuta su cane dai a a a a a a a a